In una squadra fortemente rinnovata sei uno dei volti storici, sei pluririconfermato, quindi una responsabilità in più perché sta anche a te il compito di contribuire a creare un gruppo che deve essere chiamato a ripetere il buon quarto posto della stagione passata. Con che spirito affronti questa nuova stagione Pallanarzole? Sì, come hai detto sono pluririconfermato perché questo sarà il mio decimo anno qui a Pallanarzole. Sono molto entusiasta di intraprendere questa, dico nuova avventura perché come dici tu è un anno un pochino diverso, nel senso che ci sono appunto nuovi giocatori, anche il direttivo sia un po' innovato diciamo, quindi c'è molto entusiasmo, tanta voglia di fare bene e anche un mister nuovo, un mister giovane che già dal primo allenamento ha mostrato tutte le sue intenzioni, la voglia di trasmettere la sua volontà di fare bene, le sue idee e quindi c'è molto entusiasmo. Io insieme a Vallati, Cora, Riorda e Porcaro, che siamo appunto quelli che più da tempo siamo qui, avremo il compito sicuramente di trasmettere i nostri obiettivi, la nostra voglia in un gruppo che comunque ogni anno si è appunto poi confermato un vero gruppo. Quali sono le sensazioni alla fine della prima giornata di ritiro? Ma appunto, come dicevo prima, il primo giorno è stato un giorno importante appunto di conoscenza perché appunto molti volti nuovi, il mister nuovo, anche un pochino dal punto di vista direttivo e abbiamo subito capito le intenzioni del mister che comunque ha detto di cancellare tutto fino a oggi, nel senso non pensare più cosa abbiamo fatto, cose belle, cose brutte, da oggi si parte, non pensiamo più niente, si parte da oggi, obiettivi nuovi, volontà, spirito e gruppo soprattutto.